Musica 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 Sulla destra Sulla destra I spicchietti non servono I spicchietti sono per noi mi scherzi solo, pedale del freno? no perfetto quando vuoi possiamo andare guardo io quindi puoi partire mi metti già a seconda dici piano piano che guarda se non c'è nessuno vai pure mi metti già a terza così adesso sentiamo anche la coppia del motore dai, se vuoi andare vai dai a sinistra ok, qua comincia a frenare dolce mi lasci in terza? si, non è problema freno ancora un pelo ok, adesso puoi accelerare senza problemi vai ok comincia a frenare dolce segui la riguadera qua seconda frenando però sulla frizione se mi metti a seconda perché è una frizione schiacciata ecco e niente abbiamo provato prima le 4C quindi mi sono abituata senza senza il cambio normale come se mi metti a frenare dolce ok comincia a frenare dolce togli il freno togli il freno non so se queste mi fanno segno Stefano segnato te la radio qui è morta destra qua non c'ha visto seguire il frenero non seguire lui fai seconda è vero è un cambio di automatico è un cambio di automatico è un cambio di automatico Vai dentro, vai qui, vai piano, vai piano, vai qui, vai qui, ok, grazie a te, grazie mille, ciao grazie a te Grazie a te